Zotti, tu vieni da una tifoseria calda come quella di Verona, oggi però ne hai trovato un altrettanto, ti aspettavi questo abbraccio dei tifosi gialloblù? Un po' me l'aspettavo sì, perché comunque Modena si sa che piazza è stata, che piazza è, quindi tanto sono molto felice di essere qua. E niente, venendo da Verona, sì i tifosi erano molto caldi, però sapevo di trovare altrettanto qua. E allora, impressioni della prima uscita? Abbiamo già visto, sei uomo di fascia, di gamba, di corsa? Sì, ovviamente è la prima uscita dopo pochi giorni che siamo assieme, quindi siamo già contenti così, c'è molto da lavorare, ma siamo qui in ritiro per quello. Mi sembra che il gruppo, lo spirito, non siano quelli giusti per iniziare nel migliore dei modi della stagione? Sì, sì, assolutamente, ovviamente dobbiamo conoscerci tutti, dobbiamo fare gruppo e come ho detto prima è solo l'inizio. Ha detto mister Zironelli, voglio fare possesso palla, voglio avere il pallone, se fate 30 tocchi consecutivi, pago pizza, ha già perso la scommessa? È giusto così, comunque il mister ha l'idea ben chiare e dobbiamo lavorare tanto per lui e soprattutto per mettere in pratica quello che vuole. Come va l'inserimento di Berzotti in questa nuova realtà? Il giallo-blu è sempre quello? Sì, il giallo-blu è giallo-blu. No, no, come ho detto prima sono contento, sono contento di essere qua, di aver trovato un mister così e dei compagni molto in gamba, quindi niente, sono contento. A te il mister che cosa chiede in uno specifico? Perché hai detto che le idee chiare, quindi volevo sapere un po' nel tuo ruolo che cosa ti chiede. Sì, diciamo che è un quinto un po' diverso perché vuole che giochi tanto palla, vuole costruire tanto gioco, di solito il quinto è un uomo di fascia, così si pensa, invece lui vuole che vengano tanto dentro, che giochi anche con i compagni ed è un calcio che mi piace. Abbiamo visto che quando attaccavate dalla fascia opposta tu comunque andavi sempre a chiudere l'azione sul secondo palo, una visione, una lettura giusta o c'è qualcosa in più che vi chiede? Sì, ce lo chiede anche il mister, poi io per le mie abitudini mi viene spontaneo attaccare, quindi era anche normale che cross dall'altra parte mi veniva spontaneo proprio andare dentro. Il mister comunque lo vuole, vuole i quinti che siano propositivi, che siano quasi sulla linea degli attaccanti. Poi ovviamente quando devi far gioco vuole anche quello, bisogna adattarsi. Grazie.